Mi chiamo Razio, non bevo sangue da 56 anni, due mesi, nutriti di me, e quattro giorni. Vi rendete conto che siamo i primi vampiri della storia di esserci liberati da questa schiavitù? Adrini talmi facetino. Prima beviamoci la ragazza come i vecchi tempi, poi torniamo a fare i vampiri buonisti, d'accordo? Quella ragazza non si toccherà nemmeno con un dito. Ho fame!